un casino subito perché se no che maratona è la principessa mary è impazzita per l'idea di dare lei il via alla corsa ok e quindi dicono principessa ma lei da dove lo vuole dare è da casa mia da windsor ah ecco vedi come succedono le disgrazie appunto sì ma l'arrivo lo dobbiamo mettere davanti al palco reale anche perché i reali erano stati maltrattati da qualche concorrente per esempio gli americani che siano americani appunto che non avevano abbassato il loro vessillo davanti al re dice noi con voi non abbiamo niente a che spartire allora per forza maratona deve finire davanti al palco reale deve partire e finire esatto però non avevamo i numeri nel senso che la maratona doveva essere corsa nei numeri precedenti quindi siccome naturalmente la principessa meride alzarla per forza bandiera o quello che era la gara diventa 26 miglia 385 yard ovvero sia 42 chilometri e 195 metri nel sistema metrico a proposito un casino ecco la storia del sistema metrico perché sono stati corsi i 3200 siepi e chi ne ha mai più visti e i 3500 metri di marcia perché è perché è casino con le doppie distanze e quindi quella diventerà in seguito la distanza ufficiale delle olimpiadi e le olimpiadi comunque ruotano attorno a questa gara signore un casino io non credo c'è odio secondo me quelli di san luiz è imbattibile per i personaggi ma per gli eventi questa questa supera supera allora i favoriti sono l'inglese tankan e l'americano morrissey e soprattutto un canadese indiano tong long boat questo doveva essere uno fortissimo tanto è loro che gli ha dicendo eh questo è un po' corre un professionista professionista occhio perché a un certo punto crolla long boat e anziché chiede la classica spugna o un po' di acqua fa una boccia di champagne grazie se la beve 75 acl però poi dice beh io mi ritiro e ci credo come fai il leggendario dorando pietri un fornaio emiliano all'interno della gara vede gente prima davanti che però poi crolla imparare provere lui rimonta tutti perché sceglie una tattica attendista per esempio heffron che era in testa quando lui lo passa si lascia cadere per terra e si butta e non riprenderà mai più praticamente alla fine ci sono lui e l'americano hayes che però è dietro di parecchio gli americani che non ci stanno a perdere mandano una macchina molto vicino a pietri per sollevare del polverone per non farlo respirare gli italiani reagiscono per una volta mostrano i pugni al guidatore e questo capisce che è meglio non continuare pietri entra a white city per primo e qua però succede letteralmente di tutto e gli è andata a strecnina come alle altre olimpiadi e questo è bombatissimo all'ingresso a white city prende la direzione opposta è già lì è un automa che sta andando ma le gambe non rispondono il cervello perché il cervello è il papa a questo punto la gente si commuove e cercano di sostenerlo lo sosterranno probabilmente troppo tant'è vero che pietri cade varie volte incosciente per terra pencolerà si dice tra la vita e la morte nelle 24 ore successive tra coloro che lo sostengono è quasi certo ci fosse come giudice il prossimo ser ma anche all'epoca amando conan doyle il padre di sherlock holmes che scriverà di pietri delle cose straordinarie alla fine pietri sorretto arriva tecnicamente per primo la regina alessandra che abbiamo visto essere la sorella di re giorgio di grecia sviene e poi però tira fuori da non so da dove una coppa d'oro solo per lui arriva uno svizzero si crede che offre subito 12.500 franchi per comprarla così sì e pietri dice no scusi abbia pazzesca vorrete magari è mia il successo di pietri è straordinario tanto è vero che irvin berlin gli dedicò una canzone d'orendo e in generale per lui si svenarono tutti tanto è vero che anni di distanza al merito square garden di new york e il scontro pietri fu ripresentato perché pietri divenne un personaggio trasnazionale a però a medaglia gliela sottrassero perché l'aiuto dato da tanti forse anche da sir conando il futuro ser era ritenuto irregolare quindi di fatto la maratona dell'olimpia del 1908 la vince hayes ma nella testa di tutto il mondo fino a oggi in realtà la vinse il fornaio dell'emilia grazie